buongiorno ciao pachito benvenuti in questo nuovo video con pachito pachito che ci preparerà? cosa ci preparerai? dei gamberetti speciali gamberi con... pastellati e avvolti di patate perchè praticamente... è tutto un problema noi li abbiamo visti in un ristorante giapponese e pachito ha deciso di riprodurli a casa sono... hanno delle chips di patate ma me le ho visti io la in Olanda ah è vero lui è un viaggiatore e adesso ci farà vedere questa ricetta sumo sumo si chiama questo ok i gamberi eccoli qua vedete le dimensioni eccoli qua dei grandi... dei gamberi di queste dimensioni vedete lui già le ha puliti e gli lasciate la codina guardate eh la codona devono essere belli grandi insomma questi gamberi ma si perchè sennò vengono inconsistenti ok dopo che le avete puliti preparate qua che cos'è la farina? la farina è l'acqua minerale fredda è acqua minerale frizzante fredda ecco qua belli gamberetti non mi dimentico di tirare questo guardate che schifo si si toglie? si si deve toglie ok sono già puliti sono meglio che facciamo? ecco qua i nostri gamberi sono pronti adesso ci dedichiamo alla pastetta fatta con farina normale sì farina zero farina zero ok e acqua frizzante mescolate 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 finché non viene una pastetta è più o meno quanta quantità bisogna mettere Patito tu che sei un grande chef ce lo devi dire a piacere a piacere quanto basta quando uno non sa cosa dire si deve venire una pastella non troppo liquida facciamo vedere la densità come eh vi faccio vedere la densità abbastanza densa giusto? si diciamo un cucchiaio di farina un bicchiere d'acqua scarsa ok poi facciamo vedere preciso se lo volete fare un po' croccante mettete anche un po' di semola dentro semola rimacinata ok ah la consistenza quindi penso sia questa eh Patito si della densa non troppo liquida ci siamo? ok si quindi questa è la consistenza definitiva dei grumi non vi preoccupate più di tanto perfetto preparate le patate in cui avvolgere il gambero wow noi le prepariamo sempre con questa macchina speciale ah quella che facemmo gli spaghetti di zucchine vi ricordate? facemmo con questa macchina già il video degli spaghetti di zucchine adesso vi facciamo vedere anche le patate questo è sfizioso pur se le friggete così si si vengono belle croccante yummy ecco qua passiamo il gambero nella pastella nella pastella nella pastella perfetto pastella 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 abbastata e poi e poi lo avvolgiamo con le patate uuuuuh che carino Nelzi sono belle le tue ciabattine fuggie che bello però con guaccio no ma non fa niente quello si adatta tutto intorno no? è bello più ci stanno le patate più su buone certo a Nelzi mettici un chino di patate papà ma che è una mare ecco non hai messo un po' troppo ma quello si fa poco poco poi ah ok ecco ecco questo è il nostro involtino e questo noi ce l'abbiamo mangiato ok quindi procediamo pastetta pastetta pastella 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 poi avvolgi con le patate le patate è solo una pacchetta in guacchio pacchetta in guacchio sai cosa fa? quando invitate a qualcuno non fate per lei che fate tutto su un guacchio però fateglieli pronti e buono no ma che? poi tagliate è fatta così eh apri wow troppo bellissima procedete a così ma non potete mettere di me di più come vi piace? vi piacciono di più i gamberi? mettete me ma ma perché io ti sto ingazzando? ahahahah perché tu hai così un guacchio? ahahahah va bene vediamo l'ora di mangiarli ora facciamo l'assaggio ciao ciao pronti per infornare ecco qua i nostri begamberi hanno cotto quanto tempo? sono bellissimi 25 minuti per l'eserfezza super croccantosi queste patate super croccantose ok e mo ci mangiamo vai certo dai fai l'assaggio si mi raccomando se vi è piaciuto il video lasciate tanti like soprattutto se vi piace Pachito e li devono lasciare like si si mentre Pachito ruba i gamberi e li mangia le mando baci ma se no troppo di morire like ciao 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 ciao